Abuso d'ufficio in concorso, falsa attestazione a pubblico ufficiale e falso ideologico in concorso sono a vario titolo i reati per cui il CUP del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo, su richiesta del PM Gennaro Varone, ha rinviato a giudizio il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Mario Mazzocca, il capogruppo regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri, il direttore generale della Soget Gaetano Monaco e il responsabile del settore esecutivo della stessa Domenico Ludovico, nell'ambito del procedimento relativo all'inchiesta Soget sui presunti crediti inesigibili trattasse multe e affitti delle case popolari del comune di Pescara. Nel mirino della procura pescarese sono finiti due episodi di presunti favoritismi, il primo di cui avrebbe beneficiato l'attuale sottosegretario Mazzocca, che aveva un debito di 22.300 euro con ACA. Sempre secondo l'accusa, Monaco nel 2014 avrebbe disposto per ragioni di favoritismo la cancellazione dell'ipoteca su un immobile di Caramanico. Il direttore di Soget è anche accusato di aver disposto indebitamente la sospensione delle procedure esecutive di riscossione del credito. Il secondo episodio, finito sotto la lente di ingrandimento dei magistrati pescaresi, riguarda il capogruppo di Forza Italia in regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, che tra il 2013 e il 2014 era oggetto di un pignoramento dei suoi compensi per un debito di poco meno di 13.000 euro per sanzioni relative ad infrazione al codice della strada e per alcuni tributi comunali non versati. Sospiri, secondo l'accusa, avrebbe pressato la Soget a revocare i pignoramenti ottenendo immotivate rateizzazioni. Mario Mazzocca ha scelto la via del silenzio in attesa di convocare una conferenza stampa per spiegare le sue ragioni, mentre Sospiri si è affidato ad un comunicato stampa in cui ribadisce la sua estraenità ai fatti contestati, spiegando che le rateizzazioni non sono state utilizzate, vista la scelta di saldare tutto il debito in un'unica soluzione, prima che si venisse a sapere dell'inchiesta. Comunque, la prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 24 di ottobre.